La pesca del tonno nei mari prospicenti e la penisola non raggiunge oggi risultati soddisfacenti, specie per le caratteristiche. Sei un porco, un disgraziato! Ma che sei impazzita, ti giuro, eh, la mia devi credere! Ieri sera sono andato con Pasquale! Pasquale! Pasquale e io, cugino, siamo andati, siamo andati al gira, insieme! E che film avete visto, eh? Abbiamo visto i travolti del mare azzurro! Ah, travolti, la mia solito, destino dell'azzurro a mare d'agosto! E perché tu stai tornato alle due? Perché Pasquale è voluto andare a cera, dopo due anni di carcere aveva bisogno di stare un po' in mezzo alla gente! Certo, in che ristorante voi siete stati? A cosa? A Trastire! Ah, a Trastire, da chi? Eh, da quello famoso, il boia! E che vi avete mangiato? Eh, le solite cose! E l'encale! Eh, non ti basto, il solito affettato, insomma! Il solito affettato, e per primo? Oh, per primo ho mangiato le tagliatelle, quelle alle bolognese! Le tagliatelle alle bolognese, per secondo? Secondo il pollo, il solito pollo! Che parte del pollo, quale contorno e quale dessert! Allora, i finocchi al gratte e poi per dolce la torta a margherita! Ma adesso, tesoro, su, facciamo la pace! Non ti avvicinare, per l'amor di Dio! Prima devo controllare un Pasquale! Sì, ah, Pasquale, chissà quando lo vedi! Va! Momento, che vado io! Abbiamo già dato, eh! Chi era? Ah, niente, era la Croce Rossa! Sì, la Croce Rossa! Ah, caro Pasquale! O che tu ti sei fatto nel naso? O che tu ti sei fatto? Ma allora ce ne andiamo al cinema, eh? Ah, ce ne andiamo al cinema? Meno male, saranno due anni che non vedo il cinema! Ci siamo andati ieri sera al cinema! Non ti ricordi? Abbiamo parlato anche di quel lavoro al garage! Ah, sì, sì, adesso mi ricordo! Siamo stati ieri sera al cinema! Vieni, vieni, accomodati! Grazie! Eccoci qua! Vedo che avete fatto Baldori, eh? Sì, dopo una sfuriata! Una sfuriata tua! Lo vedrai che indovino? Tu li tiravi e lui li beccava qua! Allora! Allora! Dunque, che film avete visto ieri sera? Oh! Ah, travolti da un insolito destino nell'Azzurro Mare d'Agosto 1974, 79 minuti di durata Italia, Technicolor, Panavision, Stereo Puoi sapere anche il titolo di coda? No, non c'è bisogno, prezzo Eh, ma avete già mangiato voi? Sì, sì, ma ci vediamo domani! A proposito, no, 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 a proposito Dove siete stati a cena ieri sera? Eh, dove siamo stati a cena ieri sera? Eh, ma siamo stati al ristorante ovviamente Eh, questo lo so! Scusa, non mi vorrei sbagliare Ma sento che qualcuno me la sta attirando Senti, ma tu sai il rispetto che ho sempre avuto per te Tu la mano qua me l'hai messa tu Non è che io, lontano da me, ogni... Meglio chiarire Meglio così Allora, io vorrei sapere In quale ristorante voi siete stati? Oh, voi siete stati sia voi e te? Sì! Un momento che mi ricordo Dunque, ah, c'era un passaggio a livello Questo me lo ricordo No, 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 vicino al ristorante C'era un passaggio a livello che... No, non c'era un passaggio a livello C'era, dunque, ah, una mazzetta che abbiamo preso Guarda, non si può più andare nei ristoranti Non ti danno neanche la ricevuta fiscale E ti danno certe... niente Ah, è un ristorante in Gappuccetti Cus Cus Clan Perché c'erano tutti gli occhialetti Tipo setta segreta, no, neanche quello Sì, poi facevo un caldo di prurito che avevamo addosso E la bolla... con l'accetta Aspetta che mi ricordo perché... Il boia, il boia a Trastevere Il boia a Trastevere Io... E ti... Oh! E il boia di Trastevere E che l'avete preso? E che l'avete preso? E ti basta Zitto tu! Zitto, se lo devo dire io che è te lo scuso Quale antipasto? Quale antipasto, no? Prosciutto e bellone Non c'era quello, non c'era, figura C'era invece il coso che... Ah, ci siamo lavate le mani Perché è un ristorante scicchissimo, eh Ah, i dendi pure Fatti i gargarismi Perché ti danno loro lo spazzolino È un ristorante di pazzi Ti danno lo spazzolino e dendi friccia E l'affrettato Affrettato Abbiamo mangiato affrettato Perché lì i tavoli La gente... Devi prenotare un mese prima Affettato Affettato Salame e prosciutto affettato Affettato salame e prosciutto E per primo? Per... Boh Per primo, no? Perché per primo Si mangia il primo E poi si mangia le cose Ah Sono meglio che non mi ricordo C'è nessuna disgrazia Che gli è successo? Il cuoco proprio disgraziato Non si è tagliato un dito Mentre preparava No, ma a me non si è tagliato Proprio tutto Il braccio Tutto il braccio Ha spaccato il sangue C'aveva un coltello così Proprio disgraziato Tutti a piange I clienti Disgraziato Il padre di famiglia Ah, sì, l'abbiamo portata a mano all'ospedale Manca l'ambulanza Ce l'avevano scioperata tutto quel giorno E poi ci hanno fatto l'operazione Alla gola Le tonzille E che le tagliate... 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 Perché fai... Tagliatelle... Tagliatelle... E per secondo? Secondo Con calma Voi state a fare un interrogatore di terzo grado, Marisa? Sì Io mi devo ricordare pure il secondo C'è un caldo Guarda, è terribile qua dentro Il secondo I dendi un'altra volta Perché lì ogni tre minuti ti devi lavare i dendi È un obbligo Una fissazione Senza Tendi E... Ah, il pollo Abbiamo mangiato un pollo Perché dice... E il mio marito? Che ha preso il mio marito? Il tuo marito che ha preso? Il tuo marito ha preso... Ah, l'aereo Il tuo marito ha preso l'aereo No Aspetta un momento L'aereo Ha preso l'aereo Perché il padrone È un pilota dell'Alitalia È un pazzo Allora ti fa fare un giro in aeroplane Ti rigerisci Che parte del pollo l'ha preso? La parte del pollo che ha preso il tuo marito O che parte di pollo tu l'ha preso? Non fare lo spiritoso Ah, l'ala, l'ala L'ala E lui? Il motore, direttamente Il motore La coscia La coscia? Ma l'ho detto il motore perché... Per contorno, no, per contorno Per contorno Ma è che non ti inghezzo però, Maris Perché io mi devo ricordare Non è che io ce l'ho tutte Sulla punta della vita Per contorno Per contorno Oh, il contorno Che è il contorno Ah, pu, mi devo ricordare I contorno erano tanti Che andavano tutti... Sì Questo l'avevo sempre pensato Da quando era ragazza Aveva queste tendenze Giocavo con le bambole Brutto com'è Giocavo con le bambole Eh, sì Erano... Questo è un locale frequentato da gay No, andravano tutti gay Due Due gay Anzi, tre, quattro Una flotta di gay Che sono andrati nel locale E che... Finocchi Finocchi gay Finocchi Vuoi vedere che... I finocchi E meno male che io... E' dolce? E' per dolce? Oh Il dolce, ma... Quelle... Lì c'hanno... Guarda che io sono buone care Non esageriamo Non è che io poi... Perdo la... Eh? Ah, sì Lì fanno il dolce Ricamato a meno Proprio Perché la padrona E' una ex Riclamatrice di Firenze No? Senti Ma se non dare a bere Ma io mi devo ricordare Perché la... Ma... Cosa Oh Abbiamo sfoglietto Ah, sì Adesso mi sono ricordato Dunque questo Il padrone C'ha i polli Lo spande Allora gli dà un omaggio A ogni cliente Un bollo E tu lo spenni da solo Con la... Crudo No Eh... Mare È una torta di mare Mare Una torta di mare Era una torta di mare Questo me lo ricordo Perché metto Le vongole veraci Sopra la torta È una novità Le vongole di marmo Marmo? No Di mare Marmo Mare e marmo Fanno insieme Sai con le cose Tipo paglia e fieno Fanno mare e mare E mettono le vongole veraci La limo... Tua maledetta A me che mi sono messo In mezzo a questo casino Maledetto Che io non la volevo La torta E ci dicevo Non la voglio Non la voglio A me che sono entrato qua E tutti i pesci Che salse la galla Con la torta di pelle di pollo E mentre tutti questi pesci Sono venuto In questa maledetta torta Tutti quanti clienti Sono entrati Che erano tutti I clienti ricchioni E c'era pure il proprietario Che era ricchione Ma il più ricchione Di tutto era tuo marito Di un'azienda delinquente Sì perché siamo da quattro ore A parlare di mangiare Di tagliatelle Di pollo E di cosce Dallare Dallare Dallare